Ciao a tutti, sono Matteo della Di Mano in Mano, ci troviamo oggi a Cambiago per presentarvi questo nuovo format. Presentiamo 15 nuovi articoli che andranno sul sito da lunedì a venerdì prossimo. Vi diamo queste anteprime per avere la possibilità di iscriverci al numero di WhatsApp, che è il mio, 351-690-4263 o su assistenzaclienti-di-mano-in-mano.it per ogni informazione. Vi darò qualche informazione di base su tutti gli articoli. Per qualsiasi altra cosa mi scrivete. Partiamo con questa libreria, anni 60-70. È una libreria ripiani, ripiani di composizione regolabile in metallo smaltato. Le misure, se vi possono interessare, sono 1,84 di altezza, 97 di larghezza e 34 di profondità. A mio modo di vedere è molto sfruttabile in ogni ambiente, sia con del modernariato o, ricordo, un cliente che l'ha messa nella sua taverna per modellini di auto. Quindi è una libreria molto carina. Il prezzo a cui la proponiamo è 320 euro. Secondo articolo di oggi, questa capiente libreria manzoniana del secondo quarto del XIX secolo. L'origine è italiana, Lombardia nello specifico, in noce, sorretta da piedini, dei quali quelli anteriori sono torniti, come potete vedere. Sul fronte presenta una coppia di ante pannellate, sormontate da cassetto. L'alzata è anch'essa con montanti torniti e c'è una coppia di ante con vetri soffiati. Anche gli interni sono in noce e l'alzata presenta una rastrelliera con ripiani. Le misure, qui molto importanti, sono 2,35 l'altezza, 150 la larghezza e 49 la profondità. Il prezzo a cui la proponiamo è 1.370 euro. Rimaniamo nell'antiquariato e passiamo a questo elegante cassettone barocchetto. Siamo nel barocchetto quindi alla metà del XVIII secolo, è italiano, Emilia-Romagna nello specifico, in noce, pioppo e abete. Il cassettone è sorretto da piccole gambe mosse, sul fronte presenta, come potete vedere, tre cassetti, impiallacciato in noce, con riserve in radica di noce e invece gli interni sono in abete e pioppo. Le misure sono altezza 99, larghezza 125 e profondità 63 centimetri. Prezzo veramente interessante perché lo proponiamo a 1.570 euro. Approfitto per ricordarvi che potete sfruttare il nostro laboratorio di restauro interno per un preventivo minimale o completo su qualsiasi tipo di arreto, ad esempio su questo cassettone non dovessero piacervi qualche graffe, volete rifare la lucidatura, controlliamo lo scorrimento dei cassetti o eventualmente rifacimento delle chiavi. Mi sono messo comodo per farvi vedere questa poltrona Luigi Filippo, rimaniamo quindi sempre nell'antiquariato. Come vi dicevo, poltrona Luigi Filippo, quindi terzo quarto del XIX secolo, Italia. È una poltrona sorretta da gambe delle quali, quelle anteriori mosse e intagliate a ricciolo, così come i braccioli. Dei caratteristici intagli ornano anche il grembiale e la cimasina. È in noce e la seduta e lo schienale rialzato sono imbottiti. Le misure sono 104 di altezza, 66 di larghezza e 72 di profondità. Qualora non vi piacesse il rivestimento, possiamo fornirvi anche servizio di imbottitura e tappezzeria con te su te che potete scegliere direttamente qui a Cambiago. Il prezzo a cui la proponiamo è 370 euro. Per il nostro quinto articolo che vi proponiamo passiamo all'arte. È questo olio su tela con scena di sosta nel bosco. Siamo nel XIX secolo, è un dipinto di tipo verista e la scena di genere presenta una numerosa famigliola, come potete vedere, che si riposa nel bosco, presso una fonte. È in cornice dorata, molto bella, adesso ve la facciamo vedere. Di fine 800 inizio a 900 circa. L'altezza è 116, la larghezza è 150 e la profondità è 13. Le misure sono massime, quindi si riferiscono proprio all'estremo del nostro dipinto. Lo proponiamo a un prezzo di 3200 euro. Passiamo a questa coppia di bottiglie in porcellana, provenienza Europa, di fine 800 e inizio ai 900. È, come si può vedere, un gusto orientale con ricchi decori in oro, motivi vegetali e paesaggi dentro riserve. Le dimensioni sono 18 centimetri di altezza, 7 di larghezza e 7 di profondità. Li proponiamo per la coppia a un prezzo di 240 euro. Come potete vedere, ci siamo spostati nel nostro reparto illuminazione e vi voglio presentare questa bellissima lampada che viene dalla Francia, Art de France. È una lampada da terra, poggiante su basamento in metallo, dal quale si dipartono sei fusti a foggia di stelo che sorreggono altrettante luci. Tra poco ve la facciamo vedere accesa, che è bellissima. Con paralume in vetro colorato arancione e viola, a corolla floreale. E i vetri sono firmati Art de France. Ecco l'accesa. L'altezza è di 192 centimetri e il prezzo è di 750 euro. Come potete vedere dalle temperature, ci siamo trasferiti in negozio dal nostro magazzino. Vi ricordo, negozio aperto il martedì e il giovedì dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica 10-19 con un orario continuato. Venite a trovarci, se preferite anche il suo appuntamento, scrivetemi al numero che vi ho lasciato. Passiamo a cosa? A una tecnica mista, attribuibile a James McClintock, intitolato Poesia della Natura, del 1962, quindi arte contemporanea. Sono applicazioni in metallo su tela e a retro è presente il nome dell'artista con il titolo e la data. James McClintock, per chi non lo sapesse, è un esponente dell'astrattismo post-pittorico americano. Neanche io lo sapevo. L'altezza è 47,5, la larghezza è 57,5 e la profondità 5. Lo proponiamo a un prezzo davvero interessante, ovvero 300 euro. Proseguiamo con questo dipinto cinese sotto vetro con scena di battaglia della fine dell'Ottocento. È un'opera cinese nella fine del periodo Qing che raffigura una battaglia tra due fazioni cinesi. È in cornice coeva, lavorata a greche. Altezza 47, larghezza 67 e profondità 3 lo proponiamo a 400 euro. Ci spostiamo ora su questo tavolo, ma non per il tavolo, bensì per queste sedie. Gruppo di quattro sedie che dà la forma tipica degli anni 40 italiana. Sono sedie con braccioni in legno, di faggio tinto e impiallacciatura in radica che si nota benissimo sullo schienale. Hanno un'altezza di 88 centimetri, una larghezza di 61 e una profondità di 59. Tutto il gruppo di quattro lo proponiamo a 1250 euro. Siamo sempre in negozio, in uno dei nostri teatrini, dove abbiamo appunto un'esposizione con diversi articoli. Nel magazzino possiamo trovare chiaramente tutti questi articoli divisi per categoria e quando verrete a trovarci vi accompagniamo per vedere il tutto. Cosa abbiamo qui di interessante? Quel mobile, che è un mobile sempre anni 40, italiano, con vanni a giorno e cassetti a vista. È un legno impiallacciato radica e tinto ebano. L'altezza è 148, la larghezza è 190 e la profondità 43. Il mobile che proponiamo a 1300 euro. Vi ricordo, viste le dimensioni del mobile, vi chiederete come lo porto a casa in macchina, che abbiamo un servizio di spedizione e che spedisce in tutta Italia, anche al piano. Quindi vi possiamo presentare un preventivo per la spedizione direttamente in negozio o se ce lo chiedete online. Vi facciamo sapere tutti i costi di cui avete bisogno. Già che siamo qui, abbiamo un cyborg, invece anni 60. In questo caso è un cyborg che abbiamo restaurato. Quindi vi presentiamo già il prodotto già completo di restauro. È un cyborg con antabattente, cassetti a vista in legno, impiallacciato tech naturale e ebanizzato, con gambe in metallo smaltato e maniglie in ottone. Ha una misura un pochino più piccola rispetto ai cyborg classici che si trovano adesso, diciamo, nordici, e quindi inseribile molto più comodamente in casa. Le sue dimensioni sono 84 cm di altezza, 130 di larghezza e 46 di profondità. Il suo prezzo è 1850 euro, che per un prodotto restaurato è un ottimo prezzo. Qui si può agire eventualmente con altri lavori di restauro. Mi viene in mente cambiare il colore nero e aggiungere della formica con un colore che vi piace o eventualmente qualsiasi altra richiesta cerchiamo di soddisfarla. Siamo arrivati agli ultimi tre articoli, due o tre molto belli. Partiamo dalla Lampada da Tavolo Millefiori Fratelli Toso Murano. Produzione appunto Manifattura di Murano anni 50. È in vetro con inclusioni in murrine. La proponiamo a un prezzo di 1800 euro e le dimensioni sono 47 cm di altezza e 25 cm di profondità. Cosa sorregge questa lampada? Un bellissimo tavolino di Manifattura Argentina. Siamo negli anni 50 e questo tavolino da caffè è in legno di faggio tinto con quattro gambe raccordati da elementi in legno e dettagli in ottone. Il piano tondo come potete vedere è in vetro. L'altezza è di 48 e il diametro è di 80 cm. pronto per essere messo nelle vostre case al prezzo di 980 euro. A fianco troviamo due meravigliose poltroni che abbiamo sia restaurato per la parte linea che imbottito e rivestito con questo tessuto che richiama molto gli anni 60. La produzione è italiana. L'imbottitura che abbiamo rifatto è in espanso e appunto rivestimento in tessuto in legno non so se l'avevo detto è il TEC. Vi ricordo che potete sia scegliere il tessuto qui da noi direttamente quindi trovate un paio di poltrone che vi piacciono con un tessuto che invece non vi piace assolutamente scegliamo un tessuto e le reimbottiamo oppure fornirci il vostro tessuto e pagherete solo a servizio di imbottitura. Queste poltrone non ci crederete ma hanno un prezzo di 1450 euro. Allora per oggi abbiamo finito ci rivediamo la prossima settimana per qualsiasi informazione scrivetemi al 351 690 4263 o su assistenzaclienti chiocciola di manimano.it Alla prossima ciao